Via Libera del Cipe ha i fondi necessari alla Regione Piemonte per il cofinanziamento del nuovo ospedale del Verbano Cusiossola. Sempre oggi il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha licenziato il provvedimento inerente alla messa in sicurezza della statale 34 del Lago Maggiore. Si tratta di 60 milioni di euro nel primo caso e di 25 nel secondo. La notizia rimbalzata nel tardo pomeriggio da Torino al VCO è stato il governatore Chiamparino ad annunciarla una sorta di regalo sotto l'albero di Natale. Dopo le feste l'ASL e la società di committenza regionale approveranno la convenzione con la quale la prima affida alla seconda tutte le funzioni relative alla procedura di affidamento dei lavori per il nuovo ospedale del VCO. Tutto questo succede nel giorno in cui il direttore generale dell'ASL, Caruso, ha informato la giunta piemontese che è stato depositato da parte di un'associazione temporanea di impresa il progetto per la costruzione del nuovo nosocomio e la relativa offerta economica. Le verifiche sulla congruità della proposta tecnica ed economica saranno effettuate con l'inizio del nuovo anno. Il risultato odierno frutto di mesi di lavoro di squadra è il commento del vicepresidente della regione Aldoreschini a testimoni al mantenimento degli impegni assunti dalla regione. Per quanto riguarda invece la Statale 34, l'impegno assunto dal governo regionale si è sviluppato in un forte sostegno alle istanze dei comuni coinvolti per arrivare ad un intervento strutturale e definitivo sulla importante materia.